Gremita, piazza San Tommaso ad Ortona, per assistere al tradizionale appuntamento della barchetta di San Sebastiano, detta anche Vaporetto. Dopo il rinvio a causa del maltempo di venerdì 20 gennaio, giorno della festa di San Sebastiano, finalmente si è svolto l'evento tanto atteso e sentito dagli ortonesi. La barchetta di Cartapesta è stata realizzata color rosa, in onore del Giro d'Italia che vedrà la città protagonista. In tantissimi hanno assistito allo spettacolo dei fuochi d'artificio, ma l'attenzione era tutta rivolta al viaggio della barchetta, fatto da un lato all'altro della piazza, spinta da razzi fumogeni. Il percorso è stato netto e senza intoppi, nell'andata e nel ritorno. Ciò significa che sarà un anno propizio per Ortona e la sua economia. Ecco che sta tornando in centro, con grande velocità! Sindaco, una manifestazione così sentita dagli ortonesi che non poteva mancare? Assolutamente, purtroppo il tempo non è stato favorevole, il 20 gennaio abbiamo deciso di aspettare una giornata mite per poter dare alla città quello che si aspetta ogni anno, ogni occasione di San Sebastiano. Una città che è devota a questo santo, a questa tradizione della barchetta, del ciclista della rotina, ma soprattutto della barchetta che con il suo percorso darà una indicazione sull'annata, sia per quanto riguarda la pesca, l'agricoltura, ma per tutte le attività in genere. E siccome abbiamo tanto bisogno di positività, ci affidiamo quest'anno alla barchetta rosa, anche in attesa del Giro d'Italia. Fernando Morelli, Presidente del Comitato che organizza ad Ortona la cosiddetta barchetta di San Sebastiano. È un rito che risale a diversi anni. Come nasce? Allora nasce, almeno a livello documentale, nasce nel 1936, quindi prima della guerra, da parte di un calzolaio, tale gentile Socola, che si inventa queste barchette, queste tipologie pirotecniche, alla quale alla fine colloca una sorta di barchetta, di carta pesta appesa a un filo, la possiamo vedere, la quale come ultima tipologia pirotecnica, se riesce a fare andata e ritorno senza intoppi, senza niente, è un auspicio per la pesca, l'agricoltura e le economie generiche.